Abbiamo chiesto al Governo di inserire immediatamente nel decreto semplificazione e negli altri strumenti in preparazione gli emendamenti del pacchetto Sisma che erano stati presentati per il decreto rilancio e che purtroppo non sono stati approvati dalla Commissione per mancanza dei pareri del MEF e della bollinatura della ragioneria che però erano in arrivo. Purtroppo la tempistica non ha coinciso, sono emendamenti importanti, per noi la ricostruzione dei territori terremotati è una priorità, ci stiamo battendo da tempo. Abbiamo inserito norme fondamentali col decreto Sisma, bisogna completare l'apparato normativo, bisogna rispondere alle esigenze di quei territori che sono una pesantissima crisi economica e sociale a cui si è aggiunta la pandemia. Quindi quegli emendamenti vanno subito reinseriti e messi negli strumenti più rapidi in approvazione.